Un saluto a tutti gli amici di Sport Event, mi raccomando partecipate numerosi al sondaggio e scoprirete qui da noi, in Viado Minzoni 320A, tutte le offerte Ford, gli eco-incentivi, Idea Ford, 3,95% di TAN. Venite da noi a scoprire tutte le offerte per il mese di aprile e di maggio. Abbiamo un'ampia gamma di sia Ford che plurimarche, infatti stiamo crescendo grazie ai nostri clienti fedeli. Veniteci a trovare, siamo qui per voi, assistenza, vendita e ricambi. Nel cuore della Socied Cars, qui da Cercola, Carlo Pezzella di anni 20, ben ritrovato, abbiamo lasciato nei campi di calcio e ti ritroviamo qui stasera in questo splendido punto della concensione aria Ford qui a Cercola. Tappe della tua carriera? Sì, ho iniziato facendo il settore giovanile a Castellammare con la Juve Stabia, 4 anni, ho trascorso lì, bei 4 anni. Poi ho giocato in La Puteolana, in Serie D, facendo l'Eone Ores. Poi dopo di che ho iniziato facendo un po' di eccellenza a quarto, poi ho giocato con Masiccia nel Campania Ponticelli, dopo di che mi ha chiamato l'Arzanese. Poi il Cimitile in promozione, poi ho terminato qui la carriera con il Sant'Antonabate, in prima categoria. Termina lo speciale qui dalla concessionaria Ford di Cercola. La parola naturalmente finale ai soci, tendono a salutare tutti i amici, voi di Sport Event. Ricordiamo naturalmente dove ci troviamo innanzitutto. Mi ha domizioni 320 a Cercola, uscita a Piargine. Assistenza, vendite e ricambi. Un saluto a Sport Event. 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 Un saluto a Sport Event.